Altri otto sindaci dicono no all'eolico. La proposta lanciata dal sindaco di Manfredonia Angelo Riccardi raccoglie ulteriori adesioni. Sono infatti 17 i comuni fermatari del documento da sottoporre al presidente del Consiglio dei Ministri, al ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al ministro per i beni culturali. Un fronte, quello contro gli impianti eolici offshore, che diventa sempre più compatto e che annovera tutte le popolazioni interessate direttamente o di riflesso. Ai comuni di Manfredonia, Barletta, Margherita di Savoia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Peschici, Rodi Garganico, Vieste e Zapponeta, se ne sono aggiunti quelli di Cagnano Varano, Carpino, Chieuti, Ischitella, Lesina, Sanicandro Garganico, Tremiti e Vico del Gargano. La richiesta, ha spiegato il sindaco Riccardi e Chiara, aprire un tavolo di confronto per tenere nella giusta considerazione quella che è l'indicazione giunta dalle comunità interessate e dai progetti di impianti eolici preservando, continua Riccardi, attraverso un provvedimento di diniego all'installazione di impianti eolici offshore, la sostenibilità economica, sociale e ambientale dei territori interessati dai relativi progetti, e contribuendo a proteggere l'ecosistema marino, a conservare le risorse naturali, la vocazione turistica del territorio e la crescita economica delle comunità locali che proprio dal mare traggono vitali quote di reddito. La posizione dei sindaci dei comuni costieri interessati è sostenuta anche dal coordinamento delle associazioni e dei cittadini che sin dall'inizio ne hanno condiviso e sostenuto le ragioni. Affinché il fronte istituzionale sociale sia incisivo e unito nell'azione, anche il coordinamento delle associazioni fa sapere che si attiverà in tempi brevi per consegnare le migliaia di firme raccolte con una potizione popolare al Governo nazionale, accompagnate anche dalle motivazioni del dissenso all'insediamento degli impianti eolici.